Io non vorrei commentare su una dichiarazione fatta da una presunta criminale. Cioè lei è qua da giugno, eletto in Italia con il suo partito comunista verde e lei quello che sta facendo è nascondersi dietro o con il suo diritto all'immunità. Io credo che questo sito, questo Parlamento europeo non è per nascondersi dalla giustizia.